Chi arriva primo al voto degli italiani in tutta Italia, governerà alla Camera e al Senato. Parola di Bersani, che ha intervistato ieri sera al Tg2, non ha dubbi sul fatto che sarà il PD a raggiungere la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento, perché ha aggiunto in queste elezioni c'è certamente un'offerta politica ampia e nuova, ma la novità più grande è il PD. Bersani rivendica inoltre di aver attivato con le primarie il criterio delle liste pulite. Se il PDL avesse applicato le stesse regole sarebbero saltate ben altre candidature. Il segretario del PD è tornato anche ad attaccare i partiti personali, chi ha detto non esistono in nessun'altra democrazia del mondo perché creano instabilità. Bersani quindi punta dritto al cuore di quelle che saranno le prime misure da prendere in campo economico. Ci vuole più fedeltà fiscale alla vendita del patrimonio pubblico e poi aggiunge che bisogna assolutamente rivedere le spese militari sugli F-35. La nostra priorità non sono i cazzo, la nostra priorità è il lavoro. Anche l'edilizia è un settore su cui puntare per uscire dalla crisi. Bisogna sollecitare, ha aggiunto Bersani, le attività economiche e gli investimenti che danno lavoro. E mentre Bersani si prepara a scendere in piazza con Renzi il primo febbraio a Firenze ad attaccare il segretario del PD ci pensa Ingroia. Non capisco perché Bersani si è lei con Monti e è proprio disposto a tutto pur di governare. Perché aggiunge l'ex PM il mio nemico numero uno non è Berlusconi ma Mario Monti, l'uomo delle banche che ha preso in giro gli italiani. D'altra parte di Ingroia chiude il passo Grillo che sul suo blog dichiara l'ipotesi d'intesa tra il Movimento 5 Stelle e Rivoluzione Civile esclusa e lontana.